Ci sono alcuni fatti della storia recente che anche i migliori storici ed esperti di politica internazionale hanno sempre fatto fatica a spiegare e comprendere. E uno di questi è sicuramente la rivoluzione islamica iraniana del 1979. In questo video proveremo a capire qualcosa in più di quello che è forse la causa regina della rivoluzione islamica iraniana, ovvero la figura di Mohammed Reza Pahlavi, il sovrano regnante dell'Iran, di cui in realtà si conosce davvero poco al di là della sua continuazione del progetto di modernizzazione forzata del paese iniziata da suo padre negli anni 20, quando con un golpe sovvertì e depose definitivamente la vecchia dinastia persiana dei Qajjah. Raccontare Mohammed Reza Pahlavi non è un'operazione semplice, è una storia non facilissima da decifrare storicamente e la sua comprensione è resa ancora più difficile se si considera che molti di quelli che sul finire degli anni 70 ne chiedevano la testa, dopo pochissimi anni ne rimpiansero la deposizione. Ma andando con ordine, Mohammed Reza nacque a Teheran nel 1919, dove il padre era un importante generale dell'esercito dell'ormai debolissima e decadente monarchia Qajjah e che dopo nemmeno due anni, nel 1921, riuscì a sovvertire con un golpe militare, strappandolo del potere dopo circa 150 anni di regno e imponendo la propria dinastia Pahlavi alla guida del paese, con l'ambizione di cambiarne completamente le sorti e la posizione sullo scacchiere internazionale. L'infanzia di Mohammed Reza concise dunque con il grande processo di ristrutturazione e modernizzazione generale lanciato dal padre, che instaurò una rigida autocrazia con l'uomo singolo al comando e cercò di limitare al massimo le ingerenze straniere sul paese e sulle sue risorse petrolifere, attirandosi così l'ostilità, specie della Gran Bretagna. Inoltre, particolare e non indifferente, tra gli anni 20 e 30 il padre condusse una serrata campagna contro le caste religiose che raggiunse l'apice nel 1936 con il caspe hijab, l'abolizione del velo islamico e del turbante usato dagli uomini religiosi. Una mossa che largò ulteriormente la spaccatura tra Stato e caste religiose, la cui importanza veniva così fortemente ridimensionata. Ma al di là del processo di modernizzazione e secolarizzazione, il padre del futuro Shah di Persia negli anni 30 si avvicinò pericolosamente la germana nazista di Hitler e con la quale si installarono delle buone relazioni economiche oltre che politiche. Un'amicizia che sarà tra le principali cause della sua forzata deposizione con l'invasione anglo-sovietica del 1941. Fu dunque in questo contesto che alla sola età di 22 anni Mohammed Reza apparese le redini del paese, succedendo al padre che nel frattempo era stato costretto all'esilio. Il giovane Mohammed Reza nei suoi primi anni di regno si trovò ad essere poco più di una marionetta nelle mani di Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, che nel frattempo si erano spartiti il paese. E oltre a questo l'inesperienza del giovane Shah casò un'inaspettata ondata di democrazia nel paese che è conciso con la formazione dei principali partiti politici come l'elitario fronte nazionale ed il partito comunista iraniano, meglio conosciuto come Tudè. I primi anni di governo di Mohammed Reza furono resi ancora più difficili dalle spinte separatiste delle minoranze kurde a ovest, che sotto la guida di Kasi Mohammed nel 1946 era stato addirittura creato uno stato separato. In quel periodo Mohammed Reza si concentrò a rafforzare l'esercito, ritenuto l'unica vera sicurezza per il mantenimento del potere e sfruttò anche la vicinanza ai clero sciita in funzione anticomunista. Ma tra gli anni 40 e 50 il principale problema iraniano ruotava attorno al controllo delle risorse petrolifere che l'intero parlamento iraniano spingeva per nazionalizzare. Fatto che almeno virtualmente accadde nel 1951, quando il Parlamento approvò una legge che nazionalizzava l'intera industria petrolifera iraniana. Una vera e propria sfida lanciata dalla Gran Bretagna che non ne voleva sapere di lasciare quel che rimaneva del proprio impero coloniale. Ma quanto fosse veramente debole politicamente Mohammed Reza, divenne chiaro solo coi fatti relativi a Mohammed Mossadegh e la sua nomina primo ministro dell'Iran nel 1951. Mohammed Mossadegh era un uomo con due obiettivi molto semplici e chiari, espellere l'Anglo-Iranian Oil Company per fare in modo che solo l'Iran avesse il controllo sulle sue risorse petrolifere e ridurre i poteri dello Shah. La Gran Bretagna, che al tempo era ancora fortemente bisognosa di risorse dopo la distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale e la perdita delle Indie, di tutta risposta cercò di imporre un severo boicottaggio sul petrolio iraniano, congelando anche i fondi statali. È come se non bastasse, mandò anche una parte della flotta sul Golfo Persico per esercitare ulteriori pressioni sul governo. Questa strategia diede in breve tempo i suoi frutti e l'economia iraniana si ritrovò presto in ginocchio, con una grande ondata di proteste e l'intero processo riformista di Mossadegh bloccato. I primi anni 50 per l'Iran furono davvero terribili e Mohammed Reza, l'intera monarchia da lui preseduta, era un passo dal collasso totale a causa delle proteste organizzate dai religiosi e dai comunisti, dove le voci che promuovevano la sovversione della monarchia e l'instaurazione di una repubblica erano sempre più forti e decise. Lo sciamo Mohammed Reza, spaventato dall'evolvere della situazione, scelse addirittura di fuggire dal paese e Mossadegh, altrettanto spaventato dalla situazione di generale pre-anarchia, decise di far intervenire l'esercito per sedare le proteste. Una scelta che gli si rivoltò immediatamente contro, quando nell'agosto 1953 l'esercito iraniano, orchestrato da Gran Bretagna e Stati Uniti, organizzò un golpe che depose Mossadegh e ripristinò la monarchia Pahlavi, garantendo così anche il ritorno di Mohammed Reza. Ma prima di andare oltre, occorre considerare un aspetto importante, perché la vicenda a Mossadegh fece emergere due elementi importanti. Il fatto che il petrolio poteva essere utilizzato come un'ottima arma di politica internazionale e che le potenze occidentali, qualora avessero sentito i propri interessi minacciati, non si sarebbero fatti a problemi a intervenire negli affari interni dei paesi del mondo. Ma al di là di questo, dopo i fatti di Mossadegh, Mohammed Reza, che fino a quel momento era stato solo spettatore e di fatto vittima di tali eventi, decise di dare una svolta al proprio ruolo e di impegnarsi attivamente, uscendo da quella sorta di congelamento che aveva caratterizzato i primi dieci anni del suo regno. Mohammed Reza, dopo la deposizione di Mossadegh, tra la fine degli anni 50 e l'inizio di 60, mise fuori leggi il Tude ed il fronte nazionale, eppurò l'esercito e le burocrazie da tutti coloro che riteneva connessi alla sinistra parlamentare e rafforzò l'esercito apponendo ai vertici figure a lui leali. E soprattutto nel 1957 creò la famigerata Sabak, la polizia segreta del regime, che aveva lo scopo di individuare ed eliminare tutti gli oppositori e che avrà un ruolo importantissimo nei fatti che porteranno alla rivoluzione del 79. Ma soprattutto in questo periodo l'Iran si avvicinò in modo netto al mondo occidentale e agli Stati Uniti, il cui presidente John Kennedy da un po' di tempo sosteneva che lo Shah avrebbe dovuto promuovere una serie di riforme all'insegna della modernizzazione. E fu così che nel 1961 Mohammed Reza lanciò la cosiddetta rivoluzione bianca, i cui punti cardine erano la riforma agraria, la privatizzazione delle industrie statali, l'alfabetizzazione ed il suffragio universale. Ma in verità la tanto attesa riforma agraria si rivelò ben presto un fallimento, perché se da un lato è vero che ci fu l'eliminazione dei grandi lati fondisti, dall'altro lato la redistribuzione delle terre non fu sufficiente a migliorare sensibilmente le condizioni dei contadini e soprattutto se creò una grande massa di disoccupati che prima era dipendenti dai grandi proprietari terrieri e che ora si riversavano nelle periferie delle grandi città aumentandone in modo incontrollato le proporzioni demografiche. Inoltre le riforme agrarie andarono a colpire gli interessi del clero religioso in modo profondo, danneggiandone gravemente la struttura economica, una mossa studiata nei minimi dettagli dallo Shah che riteneva i religiosi come un grande ostacolo per il progresso del paese. E oltre a questo ulteriore colpo ai religiosi arrivò con il tentativo di emancipazione femminile promossa dalle riforme, che anche se nella realtà dei fatti diede qualche frutto solo nelle grandi città, venne percepito dal clero shiita come un'ulteriore riduzione del loro potere di intervento sulla sfera sociale. Ma anche a livello produttivo industriale la rivoluzione bianca fu poco incisiva, perché al di là di spostare il baricentro economico del paese verso le grandi città non riuscì mai a garantire il tanto sognato balzo in avanti. Di fatto l'Iran rimaneva un rentier state con un'economia basata quasi interamente sul petrolio e con una ristretta borghesia industriale che preferiva però investire all'estero invece che nel proprio paese. Ma l'unico vero dato certo è che la rivoluzione bianca dello Shah portò allo scontro infuocato con il clero shiita, che fino agli anni sessanta aveva avuto un atteggiamento negativo ma tutto sommato quietista nei confronti delle vicende politiche. Ma in questo periodo, quando i toni si irrigidirono, emersi la figura di Rouhallah Khomeini, un mullah che apparteneva ai più convinti oppositori della monarchia e che dalla città di Qom iniziò ad inneggiare le foglie alla protesta con crescente fervore. Secondo Khomeini la rivoluzione bianca era l'ennesimo tentativo di colonialismo da parte dell'Occidente e per questo riteneva lo Shah Mohamed Reza una semplice marionetta di Stati Uniti alleati. Così negli anni sessanta la priorità di Khomeini e dei suoi sostenitori era quella di liberare l'Iran dalla Ghazadeghì, ovvero dall'intossicazione dei valori e modi occidentali. Ma senza soffermarci ora sulla figura e sul pensiero di Khomeini, che è sicuramente molto profondo, lo Shah dopo averlo arrestato varie volte, a metà degli anni sessanta lo costrinse all'esilio, pensando così di aver arginato definitivamente la minaccia rappresentata dai religiosi. Ma nonostante le scintille col clero sciita, i primi anni settanta furono inaspettatamente felici per l'Iran di Mohamed Reza, grazie soprattutto al grande boom petrolifero del 1973 che inondò le casse dello Stato di petrol dollari. Grazie a questo l'industria sorpassò di gran lunga il settore agricolo nel contributo al prodotto interno e l'economia generale iraniana registrò un tasso di crescita nuopare al 12%. Ma in verità questa crescita economica repentina era solo legata alle fluttuazioni del petrolio e non era il frutto di un sistema economico-industriale efficiente. E l'accanimento dello Shah nei confronti delle piccole tradizionali attività economiche come il bazar, ritenuto un retaggio del passato, ebbe effetti negativi sul lungo termine. E oltre a questo, negli anni settanta si diffuse molto la corruzione e i favoritismi nel governo e nelle burocrazie, così come si affermò una borghesia parassitaria che non favoriva la crescita del paese e nelle grandi città si andò a creare una grande massa di giovani senza lavoro che facevano fatica a trovare il proprio spazio nella società. Ma la vera sfortuna per lo Shah Mohammed Reza arrivò nell'autunno 1976, quando a causa di un brusco ribasso del prezzo del petrolio l'intera economia iraniana ne risentì fortemente e ciò si tradusse nel blocco dei salari e l'imposizione statale di alcuni prezzi, portando all'esplosione della rabbia sociale in diversi strati della popolazione. Dunque, la seconda metà degli anni settanta per Mohammed Reza rappresentò l'inizio della fine, perché oltre alle problematiche economiche vi erano sempre più intellettuali e letterati che facevano pressioni per solide e nette riforme democratiche, finalizzate ad assicurare maggiori libertà fondamentali. Ma lo Shah, totalmente incapace di capire la delicatezza della situazione, diede carta bianca alla polizia segreta, la SAVAC, per arrestare ed eliminare qualsiasi oppositore, religioso o meno. E in questo contesto, particolarmente sgradevoli per le opposizioni, erano le morti sospette di varie personalità, come dell'ideologo Ali Shariati o anche del figlio primogenito dell'Ayatollah Khomeini Mustafa. E così, anche a causa di questo, gli anni 77 e 78 coincisero con una grande crescita di tensione e proteste dove il clero sciita, guidato dall'estero da Khomeini, riuscì a diventare la principale forza di opposizione al regime di Mohammed Reza, che nel frattempo, nonostante le critiche, stava spendendo milioni di dollari per rinnovare l'esercito. Ma al di là di questo, il problema principale era che Mohammed Reza non riusciva a placare le proteste se non con la repressione da parte di polizia ed esercito. Una strategia fallimentare che ovviamente ottene solo l'effetto contrario, aumentando così la rabbia nei confronti della monarchia. E in questo contesto Khomeini, dall'esilo in Francia, fece vari appelli per lanciare il jihad contro il regime di Pahlavi, che giorno dopo giorno sembrava essere sempre più impotente dinanzi al corso degli eventi. E le moschee sparse in tutto il paese divennero i principali centri dei movimenti di opposizione, dove tra l'altro si stava già cercando di organizzare l'assetto post-rivoluzionario del paese. Ma la vera e propria condanna a morte della monarchia Pahlavi venne firmata nel gennaio 1978, quando uno dei maggiori quotidiani del paese, con l'assenso implicito del governo, scrisse che l'Ayatollah Khomeini era un comunista ed una spia inglese. E questa mossa, davvero poco intelligente, ebbe risultato di far letteralmente sprofondare nei mesi successivi l'Iran in un inferno di proteste e violenze commesse dalla Savak, che ormai erano soltanto fino a se stesse. Infine, nel dicembre del 78, durante il mese sacro di Muharram, Mohammed Reza scelse ancora una volta la repressione per placare le ormai implacabili manifestazioni che chiedevano la sua deposizione, dove centinaia di persone vestivano panni bianchi come a presagire il proprio martirio. Dinanzi ad un esercito che in realtà si stava sempre più rifiutando di sparare, ormai per Mohammed Reza e la dinastia Pahlavi non c'era più nulla da fare, e infatti nel gennaio 1979 lo Shah fuggì dall'Iran, iniziando un lungo vagabondaggio tra vari paesi dell'Africa e America, momento in cui venne lasciato sostanzialmente solo anche dagli Stati Uniti, preoccupati che la vicinanza allo Shah potesse far precipitare ulteriormente le relazioni già compromesse col nuovo Iran. Mohammed Reza morì solo un anno dopo di malattia, azzerando completamente la possibilità di una riscossa di Pahlavi e consegnando definitivamente il paese nelle mani dell'Ayatollah Khomeini, che arrivò a Teheran il 1 febbraio 1979, dando inizio ad un nuovo capitolo della storia dell'Iran, proclamando la nascita della Repubblica Islamica. Dunque, come si è visto, non è affatto semplice sbilanciarsi sulla figura di Mohammed Reza Pahlavi, un uomo che da un lato ha continuato l'opera del padre modernizzando profondamente l'Iran sia a livello sociale che economico, anche se in una condizione di semisudditanza dai paesi occidentali. Ma dall'altro lato, forse anche a causa della sua limitata conoscenza del paese che governava, pur di mantenere il potere, è stato capace di creare una violenta macchina repressiva che ha ucciso migliaia di persone, andando così incontro, giorno dopo giorno, alla propria autodistruzione.